Nella chiesa di San Bartolomeo in Pantano, a Pistoia, si è svolto il tradizionale concerto del Quintetto a Mena, formazione cameristica, nata nel 2015 dalla sezione dei clarinetti della Borgognoni. Da quell'anno, il giorno di Santo Stefano, si esibisce in questa chiesa. Questo concerto è ormai quasi una tradizione, viene fatto perché è uno dei concerti con il quale la Filarmonica Borgognoni fa gli auguri alla città, in questo caso per il nuovo anno, ed è ovviamente uno degli appuntamenti della nostra formazione, che è appunto un Quintetto ai clarinetti che si muove con l'amore per questo strumento e per tutte le sue possibilità espressive. Qui è un concerto un po' di musica classica, un po' di musica contemporanea, di musica da film, insomma un concerto piuttosto vario, che serve appunto per dare un'oretta di serenità al pubblico e con questo, in questo modo, augurare alla città un felice anno nuovo. Ovviamente siamo musicisti, quindi il nostro modo di augurare e di fare gli auguri è quello di suonare. Noi suoneremo dei brani di musica classica, spazieremo da Mozart a Foré per passare poi a Piazzolla con due tanghi famosissimi, e poi musica da film, commissario Montalbano, abbiamo qualche cosa per augurare un pochino l'arrivo dell'anno nuovo, con due pezzetti, due brani di Johann Strauss, due polche e anche qualche brano natalizio.